LimeLight Milano, oggi un grande evento di Facebook, uno dei più importanti d'Italia e siamo fortunati, siamo anche noi qui e abbiamo incontrato una persona che a Milano è molto, molto famosa perché svolge un luogo molto importante per la sua vita che ci svolga quindi volevi chiederti, intanto il tuo nome, Mario Furlan, nome da City Angel Stone Mario, che cos'è per te la vita al massimo? La vita al massimo si dà un senso alla vita, come City Angels ho visto tante persone a punto di morte e credo che quando muori ti rendi veramente conto di che cosa vuol dire avere speso male o bene la vita e non ho mai trovato nessuno che è il punto di morte, un tossico, un etichimista, o anche gente più normale che abbia detto avrei voluto fare più soldi, avrei voluto guadagnare di più, fare più carriera, anche se è un poveraccio in quel momento dicono avrei voluto chiedere scusa a mio padre, avrei voluto riconciliarmi con mio fratello avrei voluto dire perdonami, avrei voluto dire chi amo la vita ha un senso se tu la vivi per il valore che hai dentro e per noi ha un senso se aiutiamo i più deboli i più deboli sono le persone in difficoltà sulla strada, possono essere senza detto tossici, in grado di difficoltà vittime della criminalità, la ragazza che ha paura di essere aggredita e noi la scortiamo questo vuol dire vivere al massimo, lasciando una traccia d'amore grazie mille, quanti siete oggi? la sera siamo 10 persone in italiano siamo 100, in Italia siamo 300 vorrei 100 City Angels in tutta Italia per aiutarci, questo è un messaggio molto importante grazie a voi grazie a voi